Vince alla sua maniera l'Arezzo, giocando, segnando gol d'applausi, soffrendo alla fine. Davanti a un manipolo di tifosi nel settore ospiti, dal canto interrompe la striscia di 5 giornate senza successi e abbatte il sogno play-off dell'Alessandria. 18 pareggi stagionali grigi, 16 gli Amaranto, eppure si capisce subito che l'essegno X stavolta non farebbe comodo a nessuno. La partita è aperta, vivace, combattuta, va al tiro foglia, sul fronte opposto colpisce di testa De Luca. Poi Buglio stende Badanne, la punizione liftata di Bellazzini è fatale. Parabola sul secondo palo e sbampato di fisico, vince il duello con Sala, capocciata precisa, Pelagotti nulla può. La solita palla inattiva condanna l'Arezzo a inseguire e porta in vantaggio la squadra di Colombo. La gioia grigia però dura poco, Brunori ricorda di avere un talento innato e lo estrae dal cilindro con una naturalezza che lascia senza parole pure dal canto, sterzata, coordinazione, tiro a giro che toglie il ragno dall'incrocio dei pali. Cucchietti può solo guardare mentre Brunori va in doppia cifra e merita tutti i replay possibili per un gol che ha un sapore dolcissimo. L'inerzia cambia completamente, Cutolo scalda le mani di Cucchietti dai 20 metri, l'Arezzo prende in mano la gara e comincia a palleggiare costringendo l'Alessandria a correre a vuoto all'inseguimento del pallone. L'unico brivido è fortuito, un rinvio di Sala finisce sulle sinistro di Bellazzini che dai 20 metri calcia forte a pelo d'erba, Pelagotti c'è. In chiusura di tempo ecco il raddoppio, corner di Cutolo, respinta della difesa e Serrotti di prima intenzione trova una traiettoria pazzesca che va a morire proprio nell'angolo. Terzo gol nel campionato per il Giogli Amaranto in campo con il Codino che richiama gli sguardi degli spettatori e il favore degli dei del calcio. Anche in questo caso immagini rallentate che valgono il prezzo del biglietto. L'Arezzo va al riposo con un gol di vantaggio e appena sbucato dal sottopassaggio azzanna definitivamente la gara. Serrotti sradica il pallone dei piedi di Checchin, poi ci pensa Cutolo che apre la difesa avversaria come una scatoletta, Cucchietti è nella terra di nessuno e Brunori lo uccella con un lob delizioso. Gol numero 11, prima doppietta in campionato, tanta voglia di sentire l'urlo dei 50 che si sono macinati chilometri per soddisfazioni. Così, Brunori superstar con una caratteristica rara, lui segna solo gol belli. Sotto di due l'Alessandria cita dentro e reagisce d'orgoglio. Santini calcia a fil di palo, poi De Luca costringe Pelagotti a mettere in corner con la punta delle dita. Colombo fa entrare Rocco e Maltese, Cutolo va vicino al poker sia da fermo che in movimento, ma in entrambi i casi il suo sinistro è fuori misura di un metro. Il capitano a un passo dalla decima rete lascia spazio a Rolando, così come Santini fa posto ad Akamadu. Il nigeriano è un'iniezione di adrenalina e forza fisica per l'Alessandria che va a caccia dell'episodio per rimettere in bilico la gara. Dopo un paio di tentativi a vuoto, proprio Akamadu azzecca il colpo di testa vincente su crossi nel bello stile di Maltese. Meleleo concede sei minuti di recupero che non passano mai, ma stavolta l'Arezzo la porta fino in fondo ed è una vittoria pesantissima. Gli Amaranto salgono a 55 punti in classifica e si godono la notte di Alessandria per i playoff. È tutto apertissimo.